Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine. Vediamo cosa accadrà dopo il ponte dell'Immacolata settimana prossima. Ebbene, qualcosa cambia. Correnti fredde dirette verso l'est Europa riusciranno però a influenzare il tempo anche dalle nostre parti. E così a partire da lunedì 12 e ancora più da martedì 13, correnti fredde interesseranno l'Italia, temperature in diminuzione in tutto il nostro paese e anche con dei fenomeni delle precipitazioni. Ma quando le correnti arrivano dai quadranti orientali, ad essere interessate principalmente sono le regioni del Medio Adriatico e quelle meridionali. Quindi il tempo rimarrà buono al nord e su versante tirrenico. Invece, come vi dicevo, Medio Adriatico e Sud che vedranno non solo delle precipitazioni lungo le coste, ma ritorno anche della neve sull'Appennino fino a quote medie. Difficile adesso dire fino a che quota cadrà la neve, però le cime dell'Appennino centro-meridionale saranno imbiancate. Situazione comunque dinamica, quindi poi rapidamente nei giorni successivi il tempo dovrebbe migliorare, però situazione che resta molto interessante. Con questo è tutto, per dettagli rimanete quindi con noi su trebimeteo.com